ciao a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo tutorial questo è un tutorial dedicato a spiegare diciamo le basi in photoshop le varie finestre il menu e varie domandine che mi domandato ogni volta i messaggi privati allora parto col dire le cose basiliari inizio col dire che cos'è photoshop allora photoshop è un prodotto dell'adobe system incorporated che è specializzata nell'elaborazione di fotografie fotoritocco in generale quindi immagini digitali questo programma quindi permette di effettuare ritocchi alle immagini e di emulare qualche tecnica fotografica o di pittura o di disegno questo software è un software di grafica raster in quanto a differenza di altri software come illustrator usano una grafica vettoriale mentre questo qui agisce questo photoshop agisce sul direttamente sui pixel e poi una cosa molto importante di photoshop è che lavora sui livelli quindi ogni livello ha una sua immagine che tutti questi livelli poi comporranno un'immagine